musica 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 eeeh, ciao a tutti nel youtube, sono charlie e voi di questo prossimo video, finalmente oggi è primo ottobre del mio compleanno, auguri a charlie per chi ancora non l'avesse capito, oggi cioè in realtà per me è domani però oggi per voi faccio 18 anni si lo so che non sembra, lo so che sembra più piccola ma è una cosa positiva, perché vuol dire che più cresco e ogni volta sembrò più giovane e quindi quando avrò 40 anni sembra che ne avrò 30 almeno spero questo è un video speciale per festeggiare insieme a voi i miei 18 anni perché voi lo sapete io adoro condividere con voi tutte le mie esperienze dalla prima all'ultima e vorrei un po' raccontarvi della mia infanzia di quello che sono stata io in passato che ero uguale ad ora sono compresa da strana pazza però di quello che ero io in passato e di quello che vorrei diventare per fare questo ho pensato di farvi vedere un po' delle mie vecchie foto da quelle più imbarazzanti a quelle un po' più commoventi soprattutto quelle imbarazzanti però perché io lo so che vi interessano soprattutto quelle quindi se questa idea vi piace mi raccomando lasciate un mi piace immediatamente e scrivete qua sotto qual è stata la vostra foto preferita anche perché qui a fianco a me ho un cassetto enorme di fotografie quindi diciamo che ce ne vorrà un po' non seguirò un ordine crologico perché qui dentro sono tutte sparse le foto ci metterei 30 anni soltanto a trovare la prima foto, la seconda foto quindi prendo un po' come mi capita e ve le faccio vedere quindi adesso magari vi faccio vedere le mie foto del mio decimo compleanno e poi quale di dopo sarà il mio primo bagnetto sono piuttosto emozionata per i miei 18 anni perché era una cosa che aspettavo da tantissimo tempo però adesso che ci sono arrivata non mi sento affatto diversa ed è una cosa normale perché non è che il 30 settembre sono in un modo il primo ottobre sarò in un altro sono sempre la stessa però se ci pensate è strano crescere così velocemente perché a me sembra ieri che ho iniziato la prima media e adesso sono in quinto superiore e sono tipo ma quando è successo? dove ero io? ed è anche strano il fatto che è il secondo compleanno che posso qui sul canale con voi l'anno scorso non avevo fatto nulla di speciale erano i 17 anni poi non ero ancora legata al canale come lo sono adesso e feci soltanto un video speciale con i miei amici si chiama All Together Now magari ve lo linko nei commenti se me ne ricordo perché me ne dimentico ogni volta partiamo con le foto la prima foto che ho pescato è un po' particolare dovrebbe essere il mio terzo e il mio quarto compleanno non ricordo bene guardate quanto è bella cioè la torta di Winnie the Pooh guardate io adoravo Winnie the Pooh quando ero piccola lo amavo avevo tutte le videocassette cioè mia mamma che aveva più o meno 25 26 anni in questa foto si più o meno quell'età aveva e questi due tipi che non ho idea di chi siano però mi piace da morire la torta anche perché mi ricordo che a questo compleanno mi regalarono un cavalluccio a dondolo che io adoravo lo amavo ci stavo sempre lì sopra ci stavo lo cavalcavo cioè cosa ho detto poi invece ho una foto di una persona che voi non avete mai visto perché non l'ho mai fatta vedere che è mio padre guardate quanto è sexy in questa foto mio padre è proprio bellissimo papà se stai guardando questo video eri proprio bello poi ti sei rovinato però eri bellissimo questa invece ve la faccio vedere non tanto perché mi ricorda un periodo particolare più che altro perché c'erano due persone che amo ovvero mia zia e mio cugino Francesco Francesco l'avete già visto sul canale magari vi linko sempre se mi ricordo un video in cui appare lui per farvi vedere la differenza di quanto è cresciuto lei invece è mia zia e io avevo un palloncino viola in questo momento ci troviamo nel vecchio ristorante dei miei nonni se non sbaglio perché riconosco lo sfondo anche se non riconosco quella cosa nera lì vicino qui abbiamo una Charlie al mare tutta concentrata a fare cosa non si sa cioè ero proprio concentratissima che poi io da piccola mi mangiavo anche la sabbia ed ero solita restare nuda in spiaggia si mi mettevo nuda in spiaggia e se mi vestivano mi arrabbiavo ero una bambina molto deviata però va bene mi è passato questo vizio tranquilli mi è passato però tutto a posto questa foto è l'emblema ragazzi l'emblema io che mangio il gelato quanto sono sexy cioè ma io mi sposerei adesso io mi riempirei di baci quanto sono sexy mentre mangio il gelato io questa foto invece mi ricorda la mia passione per le macchinine di sabbia tuttora convinco sempre le mie sorelle le sfrutto come se fossero delle minatrici cilene per fare le macchinine di sabbia poi ci metto io dentro perché io le amavo me le facevo fare da chiunque cioè ricattavo le altre persone per farmi fare questa roba e mi divertivo qui dentro anche questa foto non me la faccio vedere perché mi ricorda qualcosa in particolare a parte il mio compleanno dei tre anni ma perché ci sono c'è un'altra persona che amo insieme a mio cugino Francesco che ritorna sempre eccolo qui quanto sexy c'è mio zio mio ziolino che adoro è stato il mio padrino al mio battesimo lo è stato alla mia cresima e lo amo con tutto il cuore no ho trovato il cavalluccio di cui vi parlavo prima guardate quanto è bello il mio cavalluccio no vabbè ma ero una fotomodella cioè anche mentre dormivero stupenda guardatemi quanto sono bello si faccio cosa ma perché non sono rimasta così bella queste oscenità si possono anche risparmiare che poi non so se lo notate sto toccando le ciglia un bambolotto perché questo perché l'ho detto già nel mio nel video nello speciale 10.000 iscritti 10 cose che non sai di Charlie io ho la mania tuttora ancora a 18 anni lo faccio questa cosa di toccarmi le ciglia fermatemi e praticamente mia madre pur di non come dire di non distruggermi le ciglia mi comprava questi bambolotti con le ciglia che io periodicamente ogni volta che mi li comprava in una settimana non ho più le ciglia però va benissimo intanto fissate i miei bellissimi denti questa credo di essere io non ne sono sicura al 100% anche perché diciamo che non c'è molta somiglianza in effetti non so se notate non c'entro molto però dovrei essere io da bambina che ero comunque cioè se ero io veramente bella per testimoniare quello che vi ho detto prima ovvero che amavo stare nelle spiagge ecco una bellissima foto censurata di charlie nella sua migliore posa nudica come vuol dire posa nudica ma che cazzo sto dicendo quelle botte eh quelle botte oh questa non sono io sono le mie gemelline da piccole sono le mie sorelle gemelle quando erano piccole amore mio bello non mi chiedete di distinguerle perché non so farlo 17 anni dopo ragazzi 17 anni dopo e dire che questa questo cammino è rimasto uguale la stanza che sta da quella parte cioè sta a fianco a questo muro questa stanza sì perché sono 17 18 anni che io vivo in questa casa già qui ho una foto della mia classe delle elementari c'è anche mia cugina qui dietro guardate questa questa cosa qui che non si vede per colpa della maledetta luce e adesso arriva un momento un po' più particolare in questo momento mi sta tenendo in braccio mio nonno mio nonno purtroppo non c'è più da da un po' di un po' di tempo avevo 6-7 anni no 7 quasi 8 anni quando 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 morì perché le mie sorelle erano appena nate quindi avevo quasi 8 anni quando morì per colpa del del casco si era dimenticato il casco e facendo manovra per tornare indietro a prenderlo cade dalla moto e mi manca tantissimo per lui ero ero la sua principessa mi chiamava sempre principessa e mi manca davvero tanto quindi ragazzi se se qualcuno di voi ha il motorino la moto lo scooter non non cercate di stare attenti perché non non sapete mai a chi potreste fare del male sia a voi stessi che a chi vi sta intorno tornando a ricordi un pochino più allegri qui c'è un cane che mi odiava vedete questo cane si chiamava birillo ce l'aveva dato un signore adesso non ricordo bene perché ero abbastanza piccola quando quando ce lo portarono quindi non riesco a ricordare birillo mi odiava perché mi odiava non lo so nemmeno io sinceramente perché mi odiava mi faceva sempre la pipì sui miei giochi preferiti e la cacca sul letto e io io lo amavo io ci giocavo sempre ma lui mi odiava e questa cosa mi ha segnato invece qui ho me con il mio primo pc da gaming e non sto scherzando ci giocavo davvero qui sopra giocavo a cartoon network sul sito di cartoon network e giocavo a tasmania quello con bugs bunny e tas che non mi ricordo bene qual'era ma non riesco a ricordare il nome non era quello a spasso nel tempo no era quello per pc con tas mi sembra che si chiamasse tasmania ma non riesco a ricordare e poi a un taro perché io andavo pazza per un taro avevo la mega matitona e quando mi fecero questo regalo era la bambina più felice al mondo e intanto bitch I'm fabulous mamma mi sa che me la sono fatta sotto poi boh ci sono queste foto dove sembro bellissima poi divento questo cioè questo diventa questo mamma perché la pubertà funziona con tutti i trane che con me allora dovete sapere che io da bambina odiavo le barbie mia madre insisteva a comprarmene perché lei le amava da piccolo e voleva che le amassi anch'io quindi insisteva a comprarme e lei ogni volta che me le comprava le distruggevo le spogliavo le coloravo gli staccavo la testa gli combinavo di tutto guardate la mia faccia in questo momento quando ho scartato il regalo cioè guardate la mia faccia era un abbraccio guardate la mia faccia disgustata questa invece è mia nonna mia nonna mia nonna Anna che ci ho litigato di recente con lei perché praticamente lei un paio di anni fa si è comprata un computer mia nonna vive qui a fianco a me si è comprata un computer e un giorno avevo bisogno del suo computer per fare una ricerca di scuola il mio non ha non ha microsoft office quindi non potevo fare il powerpoint avevo bisogno del suo computer l'ho preso e glielo ho restituito in den perché io ovviamente so utilizzare i computer lei invece un po' di meno ci fu un periodo in cui non le andava internet per un motivo esterno e disse che io le avevo rotto internet ora la mia domanda è come si rompe internet? l'ultima foto che vi faccio vedere ce ne sono molte altre ma non ho così tanto tempo è una foto con la donna che amo di più in assoluto io a lei devo davvero tutto e anche se a volte la faccio arrabbiare non sembra infatti sembra che me ne frego ma in realtà non è così purtroppo però noi adolescenti siamo un po' stupidi quindi a volte non dimostriamo davvero l'affetto che abbiamo per i nostri genitori e la foto è è con lei che è mia mamma che nonostante tutto nonostante io non sono proprio una figlia modello nonostante anch'io ho fatto i miei errori e è sempre stata vicino a me e come ogni mamma dovrebbe fare non mi ha mai fatto mancare niente e ogni volta che può mi aiuta e mi dona tutti i giorni il suo cuore ci sono tantissime altre persone che vorrei ringraziare per essermi state accanto durante la mia vita ma sono davvero tante e ringraziarle tutte è impossibile quindi se tu che stai guardando questo video mi sei mi sei stato a fianco almeno una volta ne basta anche solo una ti ringrazio che tu sia stato positivo o negativo ti ringrazio lo stesso perché quello che sono oggi lo devo a tutti sia a chi mi è andato contro sia a chi mi è stato a fianco quindi grazie grazie non ho niente non ho niente da ridire sui miei 18 anni perché sono stati 18 anni fantastici e questo è solo l'inizio secondo me perché i 18 anni non è un arrivo come in tanti credono ma è una partenza in questo percorso non mi è mai mancato niente e lo devo a tante persone a partire dai miei genitori la mia famiglia tutti gli amici che ho avuto sia dall'asilo fino alle superiori tutti vi adoro tutti non escludo nessuno nemmeno chi mi prendeva in giro quando ero più piccola quando andavo alle medie quando andavo in vacanza a campo se mi state guardando ragazzi di campo vi amo mi mancate tantissimo quindi in conclusione spero che questo video vi sia piaciuto e l'ho fatto con tutto il mio cuore volevo condividere con voi un pezzo della mia vita un pezzo della mia storia perché mi sembrava carina come speciale per i 18 anni mi raccomando scrivete qui nei commenti qual è stata la foto che vi ha divertito di più che vi ha commosso di più che vi ha fatto ridere di più e niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao via via a tutti ragazzi ciao ciao